Amici di gaietaglia.com notizie, eccoci per un altro speciale. Sul cinema, sui giovani autori del cinema italiano. Questo speciale Cinemastro vuole essere un modo per conoscere meglio i registi del nostro cinema, registi come me che vogliono farsi conoscere, che vogliono far conoscere i loro lavori e a volte non hanno sufficiente spazio per potersi presentare, per poter presentare le loro opere. E allora questo spazio, questo nostro Cinemastro vuole essere un tentativo di dare voce a noi giovani autori. Abbiamo perciò in collegamento con noi Adriano Losacco. Adriano grazie di essere qui. Grazie a voi, grazie a voi per l'invito. Buongiorno a tutti. Bene, allora Adriano, parliamo un po' di te. Come ti sei avvicinato al mondo del cinema? Beh, in realtà io vengo da un paese in provincia di Bari, si chiama Acquaviva delle Fonti, dove in realtà c'è un teatro che sta subendo per l'ennesima volta delle ristrutturazioni. Quindi un po' d'autodidatta, ecco. Il cinema era a sette chilometri, quindi quando ero piccolo ero sempre lì che cercavo di convincere i miei genitori ad accompagnarlici, perché non so, il fatto di raccontare una storia attraverso le immagini è qualcosa che mi ha sempre intrigato moltissimo. Anche se mi ci sono avvicinato molto più come attore che come regista, inizialmente. Ci parli della tua esperienza come attore? Che differenze hai riscontrato tra il mestiere dell'attore e quello del regista? Ma il fatto che io avesse iniziato come attore è perché, essendo una persona anche molto timida, ero, adesso è rimasto qualcosina di timidezza, era semplicemente per cercare comunque di provare ad essere qualcun altro e quindi appropriarmi della voce, del corpo, delle sembianze di una persona che in realtà non ero io. Il regista invece, ho capito, dal mio punto di vista, è più avere una visione completa, quindi in un certo qual modo deve essere anche il regista un attore, proprio per poter dirigere al meglio gli attori sul set, ma il regista deve avere una visione del tutto, quindi è un visionario a tutti gli effetti. Quindi il fatto che tu sia stato attore in qualche modo ti ha agevolato nella direzione degli attori? Io credo di sì. Io credo di sì perché so bene come approcciarmici, so bene come dirigerli davanti alla camera, e so bene anche quelle che sono un po' le varianze da prestazione che possono scaturire dall'inibizione davanti alla camera. Quindi sì, mi ci sento molto vicino e mi piace perché secondo me un regista deve avere anche un po' l'attitudine attoriale, proprio per rendere la sua visione completa il più possibile. Ci parleresti di un'ansia da prestazione che hai avuto in passato come attore? Te ne ricordi una? Ma essenzialmente è proprio quell'ansia da prestazione. Io ho avuto esperienze prettamente teatrali, quindi ricordo quelle poche volte che ho calcato un palcoscenico, il momento prima di andare sul palco, e quindi quando sei dietro le quinte, che sei in fibrillazione, e dici oddio non mi ricordo niente, niente, non so come devo fare, come devo entrare, che cosa devo dire. E poi invece nel momento in cui vai perché devi, lì magicamente hai davanti a te il buio, questi fari puntati addosso e magicamente diventi l'altro. Sei già un'altra persona, sei il personaggio e tutta quell'ansia diventa già un ricordo. Quali sono i tuoi punti di riferimento cinematografici? Allora, Berman per me è il maestro con la M maiuscola, perché credo che mi abbia insegnato attraverso la sua filmografia in mane, quanto tantissimo, cioè più delle esperienze che ammetto di aver vissuto o non vissuto nella mia vita vera. Non so, mi ha aperto gli occhi da molti punti di vista, e poi per me anche soltanto i titoli dei suoi film, la dicono lunghissima. Quindi è un qualcosa che già il titolo mi attirava. Dicevo, non posso non vedere questo film che si chiama Persona o che si chiama La Fontana della Vergine, Sussurri e Grida, non so, hanno un qualcosa di poetico, L'ora del lupo, no? Qualcosa di misterioso, di magico e se vogliamo anche poetico, già nei titoli. Quindi poi Bertolucci, Lars von Trier. Altri registi contemporanei che apprezzi, che stimi? Che ne so, Almodovar per esempio, cosa pensi di lui, di Pedro Almodovar? Che sta sulle tue corde oppure lo trovi distante da te? Non so, in realtà, anche diciamo il fatto dell'alone di grottesco, sì, lo apprezzo, ma non so, non mi ci rivedo moltissimo, anche perché soprattutto ammetto, faccio mia colpa, lo conosco pochissimo come regista, ho visto davvero poco, quindi non so, forse anche questo perché, non so, se per una questione di gusto, se non sono mai stato attirato, così come sono stato attirato da un Berman, da un Bertolucci, da un von Trier, non lo so perché, devo sicuramente rimediare, ma questa è la cosa bella del cinema, no? Assolutamente sì, ci sono registi che non ci attirano, anch'io molti registi non li conosco bene, perché non li sento nelle mie corde o non mi attirano, o non è arrivato il momento giusto per approfondirli, c'è sempre un momento per tutto, dimmi, dimmi. Sì, sì, no, nel caso di Almodovar è essenzialmente una questione, una mia mancanza, nel senso che non ho avuto io la premura di guardare il suo cinema ancora, perché mi sono focalizzato su altri registi, dei quali dopo aver visto alcuni film ho detto, ok, devo completare la sua filmografia, e già per completare quella di Berman, che sono tipo 87 film tra quelli tv e cinematografici. È un'impresa. Di tempo, sì, ce ne vuole, sì, di tempo ce ne vuole. Allora, Diano, tu hai realizzato un documentario su Gargano che si chiama Fiabba Garganica. Prima di parlarne con te, vorrei far vedere il trailer di questo documentario. Ok. Sì, 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 sì. Proprio in questo territorio accade un fatto magico, che sono i luoghi, i depositari delle fiabe. Sono i luoghi a ispirare le grandi narrazioni. Per esempio, qui sul Gargano ci sono alcune fiabe bellissime. Una è stata resa famosa da Max Gazet, Cristal de Pizzo Munno, la storia di questi due megaliti, che in realtà erano due innamorati e innamorati infelici. C'è una storia bellissima, a mattinata. A mattinata tutte le casse del centro storico hanno l'apertura verso il mare. La ragione funzionale sono le donne che aspettano i pescatori, ma la narrazione popolare, il genio popolare, il genio slow ci ha fatto venire fuori questa storia di Maddalena il mare, Maddalena che appunto aspetta il suo amore perduto, infelice, e perciò la sua casa è sempre rivolta verso l'amore infelice. Mi viene voglia di rivederlo, perché ho apprezzato molto come tu pensai questo documentario, anche perché io sono garganico, cioè parli della mia terra, tra l'altro parli di un aspetto della mia terra che non conoscevo, quello delle fiabe. Come hai scoperto la fiaba garganica? E perché hai deciso di fare un documentario sulla fiaba garganica? Allora, il documentario è nato grazie a un corso di cinema documentario che ho frequentato proprio sul Gargano, all'interno proprio di un rifugio all'interno della foresta Umbra, indetto da Mad Produzioni, con anche il supporto dell'Istituto Luce. e in quel caso lì eravamo una ventina di persone che sono state poi divise in tre gruppi. Al mio gruppo è stato assegnato come tema quello della fiaba, e quindi da lì ho cercato di informarmi il più possibile proprio per realizzare il documentario. Diciamo che anche già dalla differenza tra la fiaba e la favola, da lì è partito tutto. E soprattutto abbiamo cercato di inquadrare, anche di cercare comunque una fiaba, nella fattispecie del documentario La parabola del Cegia, che cerca di, in un certo qual modo, inglobare tutti quelli che sono più o meno i temi su cui si basa una fiaba. Ecco, però è tutto partito così. Com'è stata la lavorazione? Hai incontrato delle difficoltà? È stata abbastanza semplice? Sai, a volte ci sono lavori che vanno lisci come l'olio, altri invece che sono più difficoltosi, che presentano degli intoppi. Ma guarda, io sono stato molto stimolato dal processo di ricerca, ideazione del documentario, un po' meno per quanto riguarda la fase del montaggio, che è un'arte, quella del montatore, che non mi si confà. Quindi, assistendo sempre, diciamo, il montatore, lì era, diciamo, la difficoltà a cercare, attraverso il montaggio, di rendere quella che è l'idea e la visione iniziale. Per cui, quello è stato abbastanza faticoso. Però, tutto sommato, il fatto di ricercare i materiali di archivio che fossero, diciamo, adatti per il racconto di questa FIABA. E anche cercare di formulare delle domande specifiche, ben mirate, a Laura Marchetti, che è una ricercatrice scientifica, nonché antropologa, esperta della FIABA. È stata comunque una sfida, anche perché è stato il mio primo vero e proprio puntometraggio. quindi ho cercato di dare il massimo e spero che la resa sia più o meno sufficiente. No, è più che buona la resa. Io ho apprezzato tanto il tuo documentario. Lo vi dico per una seconda volta, perché è veramente un lavoro valido che merita. Grazie. Dopo FIABA Garganica, grazie a te, dopo FIABA Garganica hai fatto questo cortometraggio che ha avuto molto successo nei festival che si chiama Le Ore Piccole, di cui adesso vediamo il trailer. Ok. Serizzo? Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come un deficiente. Comunque allora, che bel bianco e nero, io adoro il bianco e nero, come mai hai deciso di fare un corto che in parte è bianco e nero? Perché questa scelta del bianco e nero, comunque è una scelta sempre molto forte, quella del bianco e nero. Ma guarda, non è stata una scelta casuale relativa soltanto al fattore estetico, quanto soprattutto diciamo narrativo, perché il protagonista è questo addetto alle polizie, che in un certo qual modo si prende cura attraverso le sue mansioni quotidiane, quali lavare, spazzare, no? Per il teatro, si prende cura appunto di questo teatro e è un uomo solo. Quindi mi piaceva cercare di alludere, di fare alludere attraverso il bianco e nero, diciamo, questo suo atteggiamento un po' malinconico, questa sua vena solitaria. Anche perché poi il bianco e il nero scompare magicamente, si trasforma nel colore, quando i movimenti interiori aumentano e subentra una collettività particolare all'interno del cortometraggio, che allude proprio a quelle emozioni, quei sentimenti, che magari col passare del tempo siamo soliti celare o dimenticare, ma che in realtà, proprio grazie a un luogo artistico, nel mio caso, nel caso del mio cortometraggio, il teatro, ma in realtà qualsiasi tipo di luogo artistico, beh, tutte queste emozioni, questi sentimenti ci colorano e quindi ci rendono più felici, diversi, essenzialmente, e quindi ci colorano. Ti farò una domanda molto banale, però è funzionale al tuo cortometraggio, in senso positivo ovviamente. Che cos'è per il tuo corto il teatro? Questo luogo magico in cui gli attori portano in scena dei personaggi? Ma guarda, in realtà il fatto che fosse un teatro, è che ho scelto il teatro perché si prestava molto a rendere l'idea, ma perché è il luogo in cui si raccontano le storie, ma poteva essere tranquillamente qualsiasi altro luogo artistico, perché il senso è che una persona, anche se ricopre una mansione umile come quella appunto di un addetto alle polizie, può essere suggestionato all'interno del luogo artistico allo stesso modo in cui lo è un artista che lo fa di mestiere. E questo è il senso vero e proprio del corto. Poteva essere qualsiasi luogo artistico. Che fosse un teatro è stato, diciamo, più o meno casuale. Quali sono le soddisfazioni che ti ha dato questo corto? O la soddisfazione più grande che ti ha dato? Guarda, vabbè, a parte il premio speciale alla regia, che sì, l'ho trovato comunque molto appagante e stimolante, soprattutto nel periodo che stiamo passando, mi riferisco alla pandemia. Avevo bisogno di stimoli e di stimoli, sì, per poter cercare di fomentare la mia determinazione in questo mondo. Però, no, la soddisfazione maggiore è stata quando, venendolo più volte, non ero assolutamente soddisfatto. Non lo sono, diciamo, tuttora perché non lo siamo quasi mai noi. Però vedo una parte di me. Quindi, anche se piccola, c'è una parte di me che mi porta comunque ad apprezzare quello che ho fatto. Sicuramente migliorerò, sicuramente avrei potuto fare di più, meglio. Però c'è quella parte di me che ogni qualvolta lo vedo, c'è. E quindi mi rende felice per il lavoro che ho fatto e che abbiamo fatto con una troupe ingente in 15 ore contate. Sai che è molto bella questa frase che dici? Io non ho mai sentito un regista che non è pienamente soddisfatto di una sua opera dire però c'è una parte di me e questo è ciò che conta. Io ho fatto emergere questa parte di me e nonostante magari il lavoro non mi soddisfi appieno, non sia perfetto, c'è quella parte di me. E questo è già un gran risultato, è veramente una bella frase, c'è da imparare. Perché spesso noi registi siamo molto duri con noi stessi, sono molto esigenti, anche troppo a volte. In generale l'artista è così, è molto esigente, vuole sempre di più. E questa è croce delizia dell'essere artiste. E cosa stai facendo ultimamente, Adriano? Allora, ultimamente faccio il babysitter. Vabbè, anche perché mi piace moltissimo relazionarmi con i bambini. La trovo una grande fonte di ispirazione per quanto riguarda appunto la nostra professione, ma anche una crescita personale non indifferente. E poi sto lavorando a un film come aiuto regista, per cui... incrociamo le dita, incrociamo le dita, con l'obiettivo, che è l'obiettivo un po' di tutti, che è quello di arrivare al primo lungometraggio. Eh sì, ho qualcosina in cantiere, due progetti, un altro corto e un lungo, ma vediamo un po' come va. No, noi siamo intrepidi, noi andiamo avanti. Noi andiamo avanti, sempre e comunque. Sempre. Un'altra domanda, come ci terresti in qualche tuo lavoro? Ti metteresti in gioco anche come attore oltre che come regista? Ce ne hai pensato? Sì, sì, lo farei. Lo farei perché molto spesso quando scrivo qualcosa che mi piacerebbe realizzare, in realtà sempre qualcosa che conosco, no? Non tratterei mai qualcosa che non conosco. E quindi per conoscerlo molto spesso le immagini che mi vengono in mente hanno il mio volto, il mio corpo, la mia voce, la mia faccia. Quindi sì, perché no? Mi piacerebbe. Bene, bene, bene. E che genere di film faresti? Qual è il genere che ritieni più affini a te? Ah, beh, io sono un appassionato del drama. I drammi e le tragedie. Però mi piace anche molto, sai, quando una, come si dice, che nella tragedia c'è sempre un alone di commedia. Ecco, sì, forse è quello che, diciamo, rispecchia a me. Allora devi approfondire Almodovar. Eh sì, lo so, lo so. Povero, madò, mi dispiace. Spero che non la veda mai questa intervista Almodovar. Quando la vedrai, dirà Adriano Lozacco, non conosceva bene il mio cinema, si offenderà e ti chiamerà al telefono. Sì, mi stronca, mi stronca. No, 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 recupererò. Io credo, ad inizio puntata, ad aver detto, cari amici di Cinema Nostro, che è il blog di Gaia Italia, invece di Cinema Mastro. Ma perché io sono un po' così, sono un po' rintontito. E poi sono biondo. Nei biondi siamo un po' svampiti, questo vuole il luogo comune. Sei biondo platino, tra l'altro. Sono biondo platino, adesso un po' biondo, un po' moro. Un po' e un po'. Senti, invece, e poi chiudiamo qui e ti saluto, Regia 2, riusciresti a fare un qualcosa, un documentario, un film con un altro regista? Credi di esserne capace? Perché ci sono registi che sono aperti nel fare Regia 2. Altri, invece, che hanno più difficoltà a farlo. Non è un po' facile, effettivamente. Dimmi. No, 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 una bella domanda. In realtà non me la sono mai posta come domanda, per cui grazie. Si voleva Giuseppe e Sciarra, vedi? No, non ci ho mai pensato, però devo dire la verità. Così come affronto, diciamo, la mia vita molto spesso dicendomi che se non so, se non faccio una cosa, non so se sono in grado di farla. Quindi mi metterei alla prova, rischierei. Sì, perché no? Se non ci provo non lo saprò mai se sono in grado oppure no. Quindi sì, mi metterei alla prova, perché è la cosa che più mi piace, rischiare e mettermi alla prova. Perché senza questo atteggiamento non credo che sarei la persona di oggi e quindi voglio continuare su questa lunghezza d'ombra. Bravo, Adriano. Grazie. Grazie. Non so che dire, è perfetto il tuo discorso. Qualsiasi cosa io provi ad aggiungere sarebbe banale. No, condivido. Anzi, in generale, in ogni lavoro bisogna essere tenaci, soprattutto di questi tempi, visto che sembra che il destino e anche le altre persone ti remino contro. Quindi dobbiamo reagire in qualche modo e combattere. Il lavoro ormai è diventato una battaglia. Collaborare ed essere uniti. Collaborazione ed essere uniti. Fare gruppo. Fare gruppo. Sì, perché un film, un corto, non esiste fatto soltanto da una persona. E' il gruppo che fa la differenza. Il cortometraggio, il film è di tutti. Il regista ovviamente ci mette il nome, la faccia, però il film e il cortometraggio è di tutti coloro che mettono il proprio nella realizzazione. Parole sante e spesso, non sempre per fortuna, ci sono set in cui non c'è questo lavoro di gruppo purtroppo. Che ci dovrebbe essere invece, perché come dici tu stesso, una troupe è come una squadra di calcio. Il regista è l'allenatore e lo staff, attori e tecnici sono i calciatori. E ognuno è indispensabile, ognuno deve rispettare il proprio ruolo e collaborare con gli altri. Sì, sì, diventa quasi una famiglia. Non vorrei dire un'eresia, però diventa veramente una famiglia anche per, diciamo, quell'asso di tempo relativo alla realizzazione, alle riprese. Però sì, possono nascere comunque collaborazioni future, possono nascere dei rapporti che vanno oltre la professione. Quindi penso sia anche una delle parti più belle di questo mestiere, per cui confronto reciproco. Io ti devo lasciare, ormai è scaduto il nostro tempo. E lasciami, lasciami. E ti lascio, eh, mi dispiace Adriano, sono così. Vi lascio, vi lascio. Vado un po' di qua, un po' di là. Grazie di essere stato con noi e grazie di questa intervista. Grazie mille a te, a voi per l'invito davvero. Grazie mille. A presto. Grazie Adriano e grazie a tutti gli spettatori di Gaglietaglia.com Notizie che ci stanno seguendo. Ci vediamo la prossima settimana con un altro ospite per parlare di cinema e di giovani autori. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao.